Sì, è venuto per farti leccare un po', salvo che non lo faccio più. Mastro Kratos, grazie. Grazie. Salve, Mastro Kratos. Ciò che avete fatto per questi regni è davvero un'impresa che non ritenevo possibile. Sappiate che il buon Mastro Brock ne sarebbe molto orgoglioso e vi ricompenserebbe con una serie infinita di sproloqui e profanità. Ah, manca molto a tutti. Sì, molto. Ora c'è uno sviluppo piuttosto interessante di cui informarvi. La detonazione di Asgard ha scosso l'albero del mondo fino alle radici, facendo cadere un gran numero di semi del regno. Pensavo che li avreste graditi. Il mio piccolo modo per dirvi grazie per aver evitato la mia immolazione. Prego. Oh, no. Grazie a tutti Quindi questo è Jotenaim Magnifico come nelle storie E anche di più Freya, un fiore Il fiore Incredibile Grazie a tutti